Riflessione nel momento più delicato del Napoli, in due settimane si decide. La sorte di Gattuso, sostanzialmente, anche se lui si è autolicenziato. È stato un po' stupido, perché io sinceramente, Gattuso, sì ho capito l'onestà, ma che significa? Uno dopo la cova delle cose, tu vivi nel mondo del calcio, sai che gli allenatori sono sempre sotto esame. Ora, onestamente, le cose non è che andavano così bene, oppure veramente ci stava un momento di difficoltà, che tu dici che sembra strano che uno abbia eventualmente mantenuto i contatti, ma uno, sinceramente, hai sbagliato, uno non va a Sky e dice io qua a Gossi sono deluso, perché Eseo, tu, parliamoci chiaramente, ecco, io sono un tuo tifoso, ho qualche dubbio, pensavo che potessi fare cose migliori, mi hai lasciato perplesso, ma io sono sempre un tuo tifoso, anche se il Napoli va in Serie B, io sono tifoso, anche se mi delude. Mi stai deludendo, sono un tifoso, penso che qualcosa in più potevi fare, mi hai lasciato perplesso, sarà stata la malattia, e che, certamente, è stata una malattia, che ti tiene in quella maniera, non so, uno si innervosisce, si distrae, comunque, ora, che tu vai dentro alla... va a vedere, che vai da Sky e incominci a lamentarti, ma già ogni intervista devi lamentarti, cioè, che ti lamenti a fare? Un po' di intelligenza, che ti vai a fare a lamentare di De Laurentiis, il quale sarebbe andato a contattare qualche altro allenatore. Ma è una cosa normale che fanno tutte le squadre, quando tu metti questa cosa, così, davanti a tutti, che significa? Oramai vuoi... e allora tu stesso hai deciso di non stare più a Napoli. A questo punto a me dà fastidio sapere che c'è un allenatore che non sarà più l'allenatore l'anno prossimo, perché io a questo punto voglio vedere dei cambiamenti, mo', perché io dico, vabbè, se Gattuso è il prossimo allenatore, e già rimane anche gli altri anni, uno sa che c'è una continuità, ma io non è che faccio un campionato e poi aspettano d'allenatore. Se se ne deve andare, se ne deve andare adesso. Non è che aspettiamo all'ultimo dell'anno. Se Gattuso si è autolicenziato, come mi pare, evidentemente, comunque non si fa. Ecco, se io fossi al posto di De Laurentiis non ti darò torto. Dice, perché De Laurentiis è messo a parlare? De Laurentiis si è messo a parlare, perché? Perché doveva per forza farlo. E se no, non è che è da aspettare l'ultimo giorno, quando non ci stanno più gli allenatori. Il contratto, come avevo previsto, ci sono alcuni mesi che avevo detto che questo contratto non mi convinceva che sarebbe stato fatto. È ovvio, perché il Napoli sta andando male, ma non da oggi. Dice, vabbè, signori cari, andiamo a guardare una cosa. Vi ricordate l'intervista di Gattuso prima della sosta natalizia? Ebbene, nell'ultima partita prima di Natale, cioè Napoli-Torino, in cui avevamo perso e sarebbe stata la terza sconfitta consecutiva. Quindi Inter-Lazio-Torino, però nei minuti di recupero Insigne è assegnato e abbiamo pareggiato. È chiaro che, rendetevi conto di quanti punti abbiamo perso. Tre partite di seguito abbiamo preso quel punto e lui dice, no, me lo prendo in un punto perché eravamo stanchi e quindi è andato bene, il Napoli ha bisogno della sosta perché è stanco. Ora, se sei stanco, la colpa è sempre tua. Non è che sei stanco come se fosse un terremoto che nessuno si aspettava e gli è arrivato. Se sei stanco vuol dire che qualcosa è stato sbagliato nella preparazione. Perché tu sei stanco e il Torino non è stanco e le altre squadre, il Milan non era stanco. Fatemi capire qual era la differenza. Benissimo. Quindi già un errore, un'autodefinizione di errore proprio. Un'autocolpevolezza. Si sei colpevolizzato senza magari volerlo dicendo che la squadra era stanca. Non doveva essere stanca la squadra. La squadra non deve essere stanca. Va bene, è iniziato il campionato. Quindi finiamo praticamente con quasi tre sconfitte. Inizia il campionato una volta. Ti sei riposato. Il giorno della Befani in casa con la Spezza abbiamo perso. Cioè voglio dire, a un certo punto è ovvio che un allenatore incomincia, un presidente incomincia a dare un'occiata a destra e a sinistra. Cioè l'intelligenza del giocatore, dell'allenatore come Gattuso dice, dipende pure da me. Certo io non sto andando bene. Gattuso hai capito che non stai andando bene. Oppure mi pensi che stai andando a una bellezza. Comunque non fa niente. Io ero un tuo tifoso e adesso sono andato a ripensare anche a quello che è avvenuto all'inizio dell'anno. E anche ad alcune riflessioni che ho sentito gente che diceva che Osimena era un brocco, un pacco. Signori, le prime partite, quando ha giocato Osimena? Sei, sette partite. Praticamente ha vinto tutte le partite con Osimena, tranne una. La partita Napoli-Sassuolo. Sassuolo ha perso in casa. Napoli giocò bene, attenzione, non era di queste sconfitte così. Certo, quando tu perdi non giochi mai bene, perché infatti adesso non mi ricordo, ma mi ricordo degli errori, delle cose, eccetera, così. Però il Napoli ebbe occasione, ebbe molte occasioni. Comunque, è l'unica partita. Signori, con Osimena, prima partita, entra a Parma, Osimena scatenato Napoli. Incomincia a segnare, perché Osimena si è giocato con quell'altro, con il 4-2-3-1. Sì, perché alcuni dicono no, era squilibrato. Guardate che noi i successi l'abbiamo avuto in quella maniera. Va bene? Con Mertens dietro Osimena. Parma-Docet. Dopo quella volta l'abbiamo giocato con il Genoa. Certo, il Genoa abbiamo vinto 6-0. Va bene, il Genoa erano tutti con il Covid, benissimo. Comunque abbiamo vinto 6-0 e c'era Osimena. Poi dopo che abbiamo fatto, non mi ricordo tutte le partite, la Juventus non si giocò, per i noti motivi. Poi altri partiti, quale abbiamo avuto? Un bene evento e abbiamo vinto. Abbiamo giocato con l'Atalanta, con l'Atalanta, 4-1, c'era Osimena. Certo, l'Atalanta forse oggi è più in forma rispetto a quel momento. Cambia poco, comunque abbiamo vinto. Abbiamo giocato bene, abbiamo dato spettacolo, signore, spettacolo. E si parlava, si diceva del Napoli e questo. Ricordiamocelo questo, eh. E c'era Osimena. Poi che ci sono state tutte le partite. E queste sono le partite. Non so che altra partita c'è stata, col Bologna. Ultima partita di Osimena, vittoria del Napoli a Bologna, con gol di Osimena. Signori, Osimena, il rapporto, giocata di Osimena, vittoria-Napoli è praticamente quasi del 100%. Quindi significa l'inserimento di Osimena è stato un eserimento vincente. Chiunque dica che è un pacco, poi può darsi pure che erano gli unici, le uniche sette partite che avrebbe fatto poi bene. Poi faceva schifo, poi tutto riesce, perché adesso non conta. Adesso poi per tre mesi, due mesi non ha giocato e poi non ha giocato. E queste ultime ispezioni, se vedi che sta male, è Mertens. Ecco la combinazione, tra l'altro, Osimena-Mertens. Signori, l'ha accoppiata Osimena-Mertens. Lozano e il segno ci avevano fatto fare il momento migliore del Napoli e il calcio giocato migliore di un anno di Gattuso. Ricordiamocelo, quindi chiunque dica che Osimena è stato il giocatore che meglio ha giocato quest'anno. Un dato di fatto inconfutabile. Quindi venite a dire questo. Quindi Gattuso, tu adesso, non si sa cosa fai, cosa fai. Hai questi due momenti importanti. Osimena non è ancora recuperato. Mertens è morto, ce lo sa. Questi due giocatori erano quelli che avevano fatto la differenza. La loro combinazione che ha fatto. E' chiaro? Quindi ci vorrebbe per riprovare con di nuovo un Mertens al top e un Osimena al top. Pose parla. Comunque, adesso quello che c'è, c'è. Questi giocatori sono acciaccati, quindi bisogna arrangiarsi e bisogna vincere lo stesso. Trova la soluzione e vedi come devi fare perché con l'Atalanta bisogna vincere. Sono due partite. Bisogna gestire. Questa partita perché la finale non deve scappare. Di Riffio o di Raffae. Io voglio la finale di Coppa Italia, voglio la finale di Coppa Italia. E' chiaro? Poi il Genoa. Il Genoa vinceremo. Lì vinceremo. Dice, ma come? Proprio ora vinceremo perché il Genoa sta vincendo tutte le partite. Sì, proprio perché sta vincendo tutte le partite. Stiamo aspettando la prima sconfitta. Contro il Napoli. E' sicuro. Il Napoli vincerà. Poi giocherà bene o giocherà male. Ma Genoa si vince. Poi ritorno con l'Atalanta. Quindi le due partite sta davvero... Non so, manca se gioca prima in caso o fuori. Comunque, le due partite hanno un valore così, combinato. E poi, signori, Torino con la Juventus. L'ultima speranza. Se perdico la Juventus già puoi dire addio al quarto posto. Che poi... Sì, c'è sempre tempo per lottare. E' anche un fatto di onore, di orgoglio. Quella partita non deve perdersi. Mai. E' chiaro. La partita. Napoli. Cioè, Juventus. No, no. Napoli, Napoli. Attenzione. A Napoli. Allo stadio Diego Armando Maradona che si gioca. E allora. Pubblico, non pubblico. A Napoli. Si deve vincere. Hai capito, Gattuso? Gattuso. I miracoli esistono. Ho pensato che tu hai fatto male per tutto il tempo. Invece no. Il Napoli aveva iniziato bene. Uno si dimentica. Il Napoli aveva iniziato bene. E la tua idea riguardo Osimèn era andata bene. Grazie a Osimèn abbiamo giocato bene. Vedremo cosa succede in futuro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.